Il prossimo giovedì 6 febbraio siamo al secondo appuntamento della rassegna giovedì dell'archivio e il titolo della serata di giovedì sarà Squaraguaite, rastelli e divieti di spigolare, la città ha paura e vedremo per quale ragione, è un momento storico particolare, la città ha paura e si chiude su se stessa, si chiude in se stessa, si chiude dentro le mura cittadine. Quindi partiremo per un viaggio di circa due secoli nella storia di Crema a partire dall'avvenimento che ho detto che non spiego per mantenere un po' di suspense. Succede in un momento di svolta della città ma questo particolare non viene mai evidenziato dagli storici. Badisco il fatto che non sono serate per storici e per addetti ai lavori ma io e Francesca cerchiamo sempre di spiegare le cose che succedono, i documenti che mostriamo eccetera nel modo più semplice possibile. L'appuntamento successivo sarà due giovedì dopo cioè per giovedì 20 febbraio e parleremo di un argomento completamente diverso. Grazie per la visione!